Buongiorno a tutti. 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 poi al finale tu comunque gli porti che ne so oggi 40 persone che se non sarebbero venute chi manca? sono venuti tutti via? risaliamo? ma chi manca? chi è? no sono venuti tutti via mi sembra gli ultimi queste ragazze che stanno a salire qua non c'è più nessuno di noi andiamo 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 Andrea che cosa? un piccolo è buono è buono è buono Eccola, me la vedo. Sta qua sotto, eccola là. Ecco, ascoltate un po' lì, dattelo una. Come fa ad arrivare l'acqua là? Come fa? Perché c'è il sale, no? Quindi è evaporata l'acqua e il sale è rimasto. E come fa? Ma da qua gli lanciano il sale, si vede che gli piace il sale alla foca. Leone stanno qua vicino, però mi sono perso là. Che cos'è? I leoni. I leoni? Tutti il tutto. Leoni di cui stanno qua, no? E mori, adesso non ho la cartina qua. Stanno qua, sopra. Sì, sì. Andiamo, è tanto. la costruzione. Allora, la corsa. Qui c'è? Allora, qui c'è. Quando c'è? Grazie.